ciao a tutti ragazzi e ragazze amici e amici bentornati alla domenica con gasi non mi sono dimenticato di voi anche se la settimana scorsa è stata una settimana molto intensa e nonostante questa ci sia il ponte ho detto troviamoci il momento per registrare perché so che i nostri amici ci tengono come è giusto che sia allora è doveroso fare una parentesi come abbiamo detto più volte come ho detto più volte la puntata della domenica viene vista solo da una parte di persone che non è quella che segue i discorsi di tecnica del canale ed è giusto che sia così però siccome è l'unico modo per stare in contatto con voi al di fuori del lavoro normale dei video del lavoro normale che prendono sicuramente una platea molto più elevata non posso dirlo in altri posti se non qui oggi allora volevo fare una parentesi sui due video con le traduzioni di flavio allora che non serve a niente questa cosa qui perché tanto quello che è già stato deciso è già stato scritto era già stato pensato così quindi allora i video parlo naturalmente quello che sto dicendo adesso naturalmente arriverà a tutte le persone che non serve perché a tutte le persone che già le sanno queste cose quindi è come quando una classe faceva casino che c'erano tre o quattro che facevano casino io ero in quelli che faceva casino ma quando parlavano alla classe per dire che vi siete comportati di merda alla classe che non è vero perché erano due o tre i due o tre cioè io eravamo o sospesi o in presidenza o assenti quindi fondamentalmente il messaggio che diceva il prof di turno o la preside chi per esso non è che arrivava molto ai diretti interessati questo chiaramente l'ho buttato sul ridere però quindi io lo dico a voi adesso ma non serve allora noi i video li registriamo il sabato e la domenica o nei giorni festivi che siamo tutte e due disponibili quindi che ne so il primo maggio ferragosto nel santo stefano non dico natale però santo stefano questi giorni qua oltre il sabato e la domenica compatibilmente con gli impegni di gabri ok chiusa la parentesi i due video con la traduzione li abbiamo fatti lo stesso giorno è palese stesse condizioni climatiche vestite lo stesso modo quindi non è che ve lo devo raccontare vi devo dire una balla quindi flavio una concatenazione di eventi non è che flavio può venire quando voglio io quando vuole gabio quindi ci siamo trovati quel pomeriggio e non l'avevamo programmato abbiamo fatto una chiacchiera ma sì era venuto qui per vedere una macchina tra l'altro ben detto ma sì dai c'hai voglia di fare sta cosa qua quindi non l'ho neanche programmato l'ho proprio pensata io sperando che fosse cosa più gradita ora c'è un discorso molto importante che è il titolo del video di oggi che fa molto più rumore lui scritto che fa più rumore io aggiungo che fa molto più rumore un albero che cade che una foresta che cresce cosa vuol dire se c'è qualcosa che non va io ve la riassumo i rompicoglioni o comunque le per i criticoni perché dopo si dividono in varie categorie comunque le persone che hanno qualcosa da dire che poi ci sono tutte le varie micro categorie no i commenti costruttivi le critiche costruttive le critiche distruttive i commenti fuori luogo le stupidà ci sono rientrano tutti nella fascia del commento negativo naturalmente non è che è un commento positivo no però ci sono tantissime sfaccettature no ok comunque rientrano in quella squadra quindi fa molto più rumore una persona che si lamenta che si è trovata bene le persone che si trovano bene difficile che scrivano i commenti positivi ergo guardate questi sono dati alla mano giusto è una chiacchiera per parlarvi di fatti perché il commento che mi ha dato più fastidio è stato quello in cui una persona mi ha risposto che i dati che ho scritto io non erano veri ecco quello mi dà fastidio perché quello è un dato oggettivo quindi è così e basta quindi io posso dire a me il video non è piaciuto io utente e non gli posso dire nulla ma lui non può dirmi no guarda che tu hai un 50 per cento di persone a cui piace un 50 per cento a cui non piace non è così e ve lo spiego allora il video della m5 e credo anche il video della delta sì assolutamente allora il video della delta chiaramente è più vecchio di quello della m5 il video della delta a stasera io chiaramente sto registrando di sabato sera ragazzi sono le 18 e 07 vi dico anche l'orario quindi senza problemi per dimostrarvi la più assoluta schiettezza questa è una parentesi poi leggiamo le mail non è cambiato niente nella puntata di oggi però volevo dirlo ha registrato ha totalizzato 694 commenti sul video perché chiaramente si è scatenato l'inferno per questa cosa del doppiaggio il video dell m5 che è più recente quindi ha avuto meno tempo per avere i commenti ne ha totalizzati 447 su una media di video dei video delle macchine normali come può essere il range come può essere il daily che vanno dai 200 ai 250 massimo 300 commenti massimo ma non arrivano a 300 commenti è arrivato a 414 a oggi che è passato del tempo quello della 156 gta quindi questi due video hanno avuto molti più commenti chiaramente non positivi critiche chiamiamole così che non sono commenti negativi ok critiche o consigli comunque più interazioni hanno avuto per lo meno quello della m5 meno visualizzazioni del solito perché a oggi siamo a circa 18500 view e il video della delta comunque quasi 30.000 quindi non male io ho scritto quando ho scritto il commento sul video della bmw non c'erano ancora i dati del video della bmw perché noi arrivano i dati dopo c'erano i dati solo del video della delta e uno ha scritto vedi se tu avessi letto quello che ti ha scritto la gente avresti rifatto il video ora io dico io penso che chi ha scritto una cosa del genere mi auguro che non sia del mestiere o che perlomeno non ci arrivi perché a parte che è una stronzata ma poi è una cattiveria allora la m5 è già stata venduta da tempo i video del restauro dell'auto sono stati fatti perché erano stati promessi come giusto che sia al proprietario per vedere i lavori che noi facciamo che facevamo perché adesso non stiamo più prendendo altre lavorazioni grosse quindi che facciamo e poi una bella soddisfazione per lui quindi io se se non avessi voluto farlo non c'era scritto da nessuna parte che ero obbligato a farlo il video finale peggio che peggio era già stata venduta e chiusa il test drive lo potevo fare della mia m5 che non è ancora stata venduta tanto per dire quella che stiamo completando una scritta dovevi rifare il video prego allora a parte il fatto che quei video lì hanno due settimane buone la m5 è già stata consegnata dopo padova quindi secondo voi io perché non piace la traduzione qualcuno o perché il video è più lento del solito vorrei capire quanti mesi ci ha messo per nascere credo nove mesi come tutti gli altri quindi è stato lento anche lui quindi vorrei capire io dovrei riprendere la macchina per registrare ancora il video meno male che non sono tutti così quindi mi ha scritto il proprietario dicendo guarda gabri a me il video è piaciuto ti ringrazio non star a guardare il cosi allora ho detto oggi guardo le percentuali premetto che io di video in bilingua non li farò più ma per un altro motivo che adesso vi spiego percentuali a oggi di like ufficiali quindi non chiacchiere da bar ufficiali video della delta integrale mia 87,5 per cento video della m5 bianca 84,4 per cento e vi dico anche i numeri abbiamo 1438 mi piace contro 266 non mi piace ci sono meno visualizzazioni del solito di questo video sulla delta sono buone perché 30 mila e sulla delta abbiamo 1925 like contro i 274 dati alla mano quindi non siamo al 50 per cento ma siamo oltre l'ottanta per cento quasi al 90 ora vi dico un'altra cosa un neofita o una persona che non lo sa naturalmente dice cavoli che buona media no per la gasi garage la media è pessima è pessima perché i miei video vanno perché purtroppo questa cosa l'hanno tolta non so per quale motivo per me è una cosa assurda vanno da un minimo del 99,2 per cento del video della lancia k coupé ci parlo di video recenti 99,8 per cento 99,5 per cento il video del daily 99 per cento pieno il video della domenica 99 per cento il video del range 99,1 il video della 156 99,7 quello dell'officina della vita d'officina 99,5 il jaguar v12 quello del restauro dettato dal cuore quindi quello della tema 16 valvole 99,5 e così facendo quindi noi andiamo da un minimo di un 98,8 quindi quasi 100 per cento a un 99,9 quindi abbiamo praticamente una platea di persone contentissime avere un 87 85 84 parliamo di circa il 13 14 per cento in meno che è tantissimo perché non l'abbiamo mai fatto così basso ma da lì a dirmi che il video è un insuccesso è un altro discorso perché non lo facciamo più perché è un grandissimo sbattimento e leggere certi commenti fa più male a flavio che a me ok non è che da fastidio ci rimani male ci rimani male perché dopo esserti sbattuto tanto sia io che lui che gabri questo è il risultato quindi i commenti del tipo gabri a me piaceva molto di più il video come prima con la traduzione in bilingua perde di fluidità benissimo ma non del tipo ah ho visto il video tre secondi ho stoppato perfetto vuol dire che di quella macchina lì e di quell'oggetto non te ne fregava niente perché sarebbe come per dire vado a una festa o vado a una cena non vado perché c'è uno che mi sta sui coglioni ma ce ne sono tanti altri che mi piacciono quindi come hai mangiato ieri sera guarda c'era un dolce che faceva schifo ma il primo il secondo il contorno com'era perché il secondo il contorno era buono e allora devi dirgli quattro al servizio o quattro al ristorante io entrerei nella televisione quando vedo quelle cose lì quindi queste cose qua mi danno i nervi poi è bello per carità che ognuno dica quello che vuole infatti non lo faccio più ma non lo faccio più per non leggere queste cose per non andare a spiegare interagire e a rispondere di cose ovvie vi dico un'ultima cosa rispondo sempre non voglio fare l'elenco come fanno in qualche video di leggere i commenti negativi rispondere a uno a uno perché non c'ho tempo però vi voglio rispondere a voglio dirvi questa cosa allora ci sono tanti canali che sono sotto anche ad altri quindi c'è un canale principale che fa pubblicità ad altri ma anche canali singoli e quindi non cambia nulla che vivono giustamente vivono solo ed esclusivamente di lavoro quindi il canale è una pubblicità i video che fanno è una pubblicità anche i nostri sono una pubblicità fino a un certo punto il video domenicale non lo è molti video di restauro tipo quello dell m5 della prova su strada non lo sono perché la macchina è già stata venduta però io loro dicono una persona mi ha detto tu continua per la tua strada cioè fai video in bilingua e poi vedi se ti seguono è il succo della frase era se ti seguono è un successo se non ti seguono hai sbagliato questo è un errore enorme perché bisogna vedere una persona un utente che cosa intende per successo perché io posso avere centomila visualizzazioni di un video ma nessuno che viene in officina a riparare la macchina nessuno che compra la macchina quindi bastano pochi clienti ma giusti noi non viviamo di aria noi abbiamo cinque persone da sfamare sotto di noi un'azienda che costa tasse da pagare imu spazzatura luce quindi non campiamo d'aria è una pubblicità per la nostra azienda quindi quello che per voi è interazione e divertimento è un di più ma la base principale è questo il primo video che feci o il secondo mi sembra il primo io ho spiegato questo questo canale spiega la nostra spiega e racconta la nostra attività poi io ci metto dentro anche delle cose che non c'entrano niente pur di stare in compagnia vedi il video della domenica ma la stragrande maggioranza è una pubblicità per la nostra realtà tutti i video che voi vedete di persone che lavorano con youtube e basta non hanno una realtà non hanno dipendenti o magari vi fanno vedere quello che non sono non faccio nomi ma ce ne sono tanti vivono di visualizzazioni naturalmente e allora lì va il discorso del ragazzo di prima del messaggio di sponsor una marea di marchette quindi non quando io faccio vedere il discorso della osa la osa non mi dà soldi io prendo il materiale della osa mi trovo molto bene da una vita e quando capita il prodotto giusto lo pubblicizziamo ma perché già lo montiamo è ben diverso da quelli che fanno il fuoricampo nel video e vi mostrano questa cosa che non è sbagliato è chiusa parentesi è lavoro quindi non è che queste persone sono più brave di gasi è il contrario od è uguale perché queste persone guadagnano e lavorano in un altro modo ok quindi con la differenza che magari hanno meno uscite meno spese noi se teniamo chiuso quattro giorni per fare il ponte per la gasi sono quattro giorni persi ma è giusto dare anche della libertà e del riposo ai miei ragazzi come giusto che sia quindi non voglio essere un martire voglio solo spiegarvi che non è tutt'oro quello che luccica altrimenti la domenica non avrei la giacca ma sarei con le gambe in montagna o al mare quindi sono delle cose un pochettino diverse detto questo quindi bisogna vedere se un video fa meno visualizzazioni e sicuramente così se arriva alle persone giuste quindi il discorso dell m5 non è per conquistare il pubblico estero ma è per far sì che magari persone possano interpretare la mia visione delle auto in paesi dove ci sono già video di queste macchine perché non è che abbia fatto niente di particolare ok poi che flavio non sia un tecnico per quanto riguarda i termini tecnici su questo poveraccio ci sta è normale però credo quelli che mi hanno risposto così gli dispondo subito dico un inglese che non capisce una fava di italiano piuttosto di non avere il video nella sua lingua quindi capire zero e uno al posto che digli gearbox per dire cambio gli dice shift cambiare ma capisce l'altro 80 per cento per essere buoni ma per me il 95 per cento del discorso sarà ben meglio di quello che non capisce un cats e come ci sono una marea di canali belli interessanti e si guardo quelli delle esplorazioni e dei discorsi delle armi delle munizioni in cui sono lingue straniere ma se ci fosse una traduzione come quella che abbiamo fatto con gabri ma mi bacerei i gomiti di una cosa del genere non è fluido pazienza a me interessa quella carabina o mi interessa la storia di quel paese certo che un video tutto in una sola lingua è migliore siamo tutti d'accordo ma piuttosto che niente è meglio piuttosto perlomeno io la vedo così ho voluto chiudere la parentesi comunque non ne faremo più per un discorso di sbattimento di quadrare i tempi di tutti e poi i risultati finali sono che tutte le persone a cui non piace si fanno sentire tutti le persone a cui piace invece non si fanno sentire quindi alla fine all'utente finale che posso essere io o il povero flavio non è il massimo della vita quindi questa è la decisione andiamo avanti ragazzi con le vostre mail perché giustamente ci sono delle domande e delle curiosità che potrebbero servire a molti vi voglio ricordare una cosa prima di cominciare saremo presenti al modena motor fest il prossimo weekend nella giornata di sabato nella fattispecie ci sarò io gabri e saremo sul palco alle ore 15 in piazza roma a modena sarà un grandissimo e bell'evento condividete ragazzi perché la prima volta che vado quindi anche per me è tutto nuovo allora questi questi messaggi possono essere anche di spunto a risposte su molte cose noi cerchiamo sempre di trattare il discorso delle automobili particolari poi quando ci sono dei racconti di truffe robe del genere chiaramente cerchiamo di fare un po' un po' però non è che possiamo parlare sempre di dispiaceri perché ogni volta che accendo il telegiornale è sempre un dispiacere costantemente quindi cerchiamo almeno la domenica nei dispiaceri quelli grossi di metterli col contagocce perché sennò veramente uno si fa dopo si la testa si riempie di cose e non esce più neanche di casa che è la cosa più sbagliata allora ciao gabrile qualche giorno fa ero con la mia toyota gt 86 gran mezzo gran gran mezzo e non vi dico niente però adesso non è una toyota gt 86 ma ci sono comunque qualche giapponesino in arrivo chiuso la parentesi in autostrada quando un sassolino ha scheggiato il parabrezza in una parte ahimè non riparabile molto in alto quasi sul bordo questa scheggiatura circolare e non molto profonda non ha spaccature che partono da essa ma nonostante ciò e nonostante la cosa non sia peggiorando sto valutando il cambio del parabrezza l'auto è tutta originale difficile trovare una gt 86 totalmente originale prima vernice purtroppo ho faticato molto e un noto ricambista di vetri mi propone il cambio a 100 euro sfruttando la mia assicurazione ma con un ricambio non originale anche se a detta loro identico all'originale che ha anche una fascia verde sotto a quella nera superiore il ricambio originale in toyota ha un prezzo proibitivo per me e quindi adesso sono combattuto tra il temere il vetro originale e capire se la scheggiatura diventa una crepa o cambiarlo con questo non originale la paura è che l'auto possa perdere valore che in futuro un acquirente possa pensare a un sinistro a causa del vetro cambiato tu cosa faresti ti allego ti mando l'associatore in questione mi ha mandato alla foto è veramente una cosa piccola allora io vi parlo da collezionista meccanico amico e conoscitore di automobili da anni e ti dico che tu tutte le tue paure le hai azzeccate tutte perché ti garantisco che è così allora innanzitutto io rispondo a tutti gli utenti chiaramente compreso anche lui dobbiamo scindere distinguere le due cose qui non si tratta di una macchina comune e di una macchina di basso valore si tratta di una macchina particolare e che resterà una macchina particolare posso dirvi ai livelli di macchine anche molto più blasonate è una gran macchina giù il cappello che non ho ma me lo tolgo lo stesso allora innanzitutto non è che tutto quello che non è fiat quindi mercedes bmw toyota nissan honda si trovano i ricambi dall'oggi al domani magari oggi è così perché abbastanza recente non sappiamo come sarà fra 5 6 anni quindi la sua paura è perfettamente fondata al 100 per cento anche perché lui magari si tiene la macchina un tot di anni la vende a uno che non gliene frega niente di questa cosa e va avanti quell'altro la vende un suo domani a un collezionista o la tiene a vita la prima cosa che li guardano sono i vetri sulle delta sulle m5 m3 i vetri i collezionisti li guardano tutti non parlo degli sproveduti parlo dei collezionisti ok la gente seria questa parlando di macchine da decine e decine di migliaia di euro quindi non si sta parlando di una macchina 3 4 5 mila euro che chi cavolo me ne frega allora innanzitutto c'è due problemi il parabrezza non originale che sia identico all'originale non discuto ci mancherebbe altro non è originale quindi non ha la marchiatura toyota con lo stesso anno sopra perché io voglio arrivare a questo problema quindi il parabrezza non originale lascia perdere allora per la tua scheggiatura francamente è veramente una cazzata io mi terrei quel parabrezza montato tutta la vita subito certo che se da chino diventa una venatura così cambialo ma per me lì non ti rompe i coglioni vi dico un'altra cosa non è detto che comprando il parabrezza nuovo vi arrivi del medesimo dot di anno di quello che avete noi abbiamo finito di restaurare adesso è a tarare l'iniezione la 33 q4 andate in carrozzeria vi ricordate che vi avevo raccontato la macchina ha preso una leggera grandinata io non l'ho fatta verniciare quindi tramite un mio amico leva bolli abbiamo raddrizzato la grandinata e aveva il parabrezza rotto proprio ha preso in pieno un colpo di grandine ed è diventato una venatura più o meno lunga così io ho cercato il parabrezza alfa romeo coevo del medesimo anno chiaramente più o meno perché la 33 l'hanno fatta per una marea di anni quindi io posso avere la macchina del 92 non posso prendere un parabrezza marchiato 87 capito cosa vi voglio dire quindi è sempre originale alfa romeo ma non è credibile ora secondo il mio punto di vista sarebbe da capire innanzitutto il valore proibitivo del ricambio originale qual è perché io personalmente comprerei un parabrezza originale e me lo terrei da parte perché adesso c'è un sassolino che non ti fa niente un domani potessi prendere una scheggiatura giusta e potresti rompere il parabrezza seriamente oppure la macchina potrebbe avere un valore importante potresti dire la voglio perfetta cambio il parabrezza prima di venderla e lì sarebbe il top dello stratop quindi il valore proibitivo quant'è 1000 euro io personalmente li investirei ora perché ora hai la possibilità di trovarti il dot giusto io il dot intendo la data che non si dice dot sul vetro ma comunque ci siamo capiti il dot giusto sul vetro oggi se lo prendi fra dieci anni ammesso che lo trovi magari li trovi con dei dot più recenti e la cosa non sarebbe comunque credibile è come se io prendo un parabrezza sol extra di una delta evo può essere un 92 può essere un 94 ma se la macchina del 94 o se la macchina del 92 se la macchina del 92 gli metto un parabrezza del 94 non è credibile più o meno se succede il contrario la macchina del 94 guardo tutti gli altri vetri se sono 93 con due pallini e un 92 gliela posso raccontare glielo posso dire ma non il contrario capito cosa vi voglio dire quindi bisogna pesare delta vini qua amore vini qua cucciolo bisogna pesare le cose assolutamente quindi quello quello che per voi potrebbe essere una cavolata potrebbe essere un problema a livello collezionistico quindi assolutamente non butterei via i soldi per un parabrezza non originale ma mai e poi mai valuterei quanto costa quello non quello originale direi ok lo faccio come investimento me lo tengo questa purtroppo è una cosa che a noi capita spessissimo ragazzi mi compiaccio che questo problema qua c'è anche sulle macchine giapponesi stanno facendo una coccolina gnocane così che amore quindi che ho capire la testolina a posto allora qua tocchiamo un tema che purtroppo è molto delicato per molti carissimo gabrile niente complimenti abbasso la grande truffa delle auto elettriche vengo al dunque ti scrivo dal cilento e voglio evidenziarti la la demagogia degli amministratori di bergamo e lombardia in generale per l'assurdo divieto di circolazione per le auto diesel fino a euro 5 imposto già da ottobre scorso e poi prorogato a ottobre 2024 mia figlia dopo molti sforzi è entrato nell'arma dei carabinieri complimenti tra l'altro ed è stata assegnata a bergamo nel maggio 2023 con la mia modesta pensione le ho regalato una fiat 500 1300 multijet euro 5 che ancora sto pagando per permetterle di andare al lavoro ma il grande sindaco di bergamo ha deciso che dovrà acquistare un'elettrica o un'ibrida al costo di circa 30 mila euro perché le auto diesel inquinano ma con lo stipendio da carabiniere come farà il grande sindaco pensi che alle 70 mila auto di lavoratori che non possono permettersi l'acquisto di un'auto nuova e soprattutto di documenti e soprattutto sui documenti le auto contribuiscono solo al 3 per cento dell'inquinamento mentre i dati della tenaris che sparge una sinistra nebbiolina su tutta la valle non si conoscono già ma quella non si tocca perché interessa i suoi potenti potenti amici e sponsor elettorali vabbè vuol dire che nella peggiore delle ipotesi la manderò da te per cercare un'auto che possa circolare ma da me non la trovi però col cuore in mano tu che ne dici un caro abbraccio eduardo allora ancora pensiamo che il discorso io non parlo mai di questa cosa ma non è che non la guardo ancora pensiamo che il discorso delle auto sia il risolvere l'inquinamento ma non sono le auto il problema ok quindi qua si sta gli interessi sono completamente diversi il mondo delle auto non si muove le vendite sono basse quindi la gente deve inventarsi qualcosa qualcosa che una volta non succedeva i prezzi delle auto sono alle stelle quindi mi posso immaginare ora io voglio fare un altro tipo di ragionamento ma un 1300 multijet euro 5 che è una macchina recente per conto mio può essere molto più a posto di tantissime altre auto che circolano se le se le revisioni funzionassero come devono funzionare e le macchine che erano dichiarate legali perché uno che ha comprato una macchina nel 2013 posso pensare 2011 2012 era regolare non vedo perché non debba esserlo oggi quindi questa macchina lasciali fare il suo ciclo vita non produci più l'euro 5 diesel ci sono l'euro 6 non producono più i diesel cazzi vostri ma quelle che ci sono fateli fare il loro ciclo vita tanto le macchine verranno demolite quindi verranno utilizzate verranno demolite inculcare questa idea questa demagogia è una follia pura che non sta portando nessun frutto anzi sta portando soltanto soltanto con l'odio verso il cambio obbligato delle auto perché molta gente piove a molta gente gli stanno girando i coglioni ma tanta gente non poca anche perché non sta dando nessun frutto questa roba qua e ci sono persone che fanno una marea di sacrifici perché io mi devo io o chi per esso deve indebitarsi per comprare un autoveicolo nuovo ma io comprerò l'autoveicolo nuovo nel momento in cui lo reputo opportuno magari questa ragazza qua appena ha cominciato a lavorare come ha scritto lui penserà alla casa penserà a una famiglia penserà agli stracazzi suoi cioè gli ha regalato la macchina il suo padre perché non posso poter circolare ultima cosa dopo c'è il discorso del menefreghismo che molte volte funziona perché in italia facciamo 250 milioni di leggi e ci sono anche 251 milioni per non per ok allora a milano che è un comune assurdo perché milano e automobili nella stessa frase non ci possono stare quindi milano e io abito a monza quindi me ne guardo bene dall'andare a milano non ci vado più quindi milano e automobili nella stessa fase non ci possono stare però lì ci sono le telecamere ora io faccio una domanda ai miei amici bergamaschi perché io vado tantissimo a bergamo e brescia però non vado in centro quindi non so a lei dove lavori quindi se è in centro a bergamo ci sono le telecamere perché se ci sono le telecamere allora c'è poco da dire funziona un po come l'area b area c di milano ma se non ci sono le telecamere funziona con il buon senso dei vigili perché sono loro fondamentalmente perché la polizia i carabinieri mica ti guarda se hai la macchina che è un euro 4 un euro 5 cioè hanno ben altro da pensare grazie al cielo a parte che poi anche nelle forze dell'ordine lei quindi comunque sia ma a monte di quello ma anche gli stessi vigili ve lo dico io che ho avuto dei problemi con la multa della targa prova quindi quando c'è da dire qualcosa di positivo lo dice non mi hanno mai guardato su una cosa del genere mai io ho sempre girato con l'encruiser ho sempre girato con le macchine che provo dei clienti che non possono girare nessuno mi ha mai rotto le scatole mai mai anche in un posto di blocco per quando fanno ogni due per tre per controllare i documenti e il resto ci mancherebbe mai rotto le scatole quindi se tu mi parli di paura perché ci sono le telecamere da lì non scappi fanno la foto quello che è successo a me che ho raccontato quella sera con con dario e marco dell'encruiser e della e del carattrezzi quando sono andato a molino dorino e lì non si sgarra c'è la fotocamera e tutto ma se bergamo o altre città non hanno questo sistema o funziona in parte non so magari dove va lei non io non mi preoccuperei gliela farei usare punto e basta perché da lì al controllo reale mi piacerebbe che mi scrivessero delle persone che hanno avuto dei problemi io li accetto e li leggo volentieri gli hanno avuto dei problemi con questo tipo di controlli perché io tra tutte le persone che ho visto non ho trovato nessuno che non poteva circolare la macchina cioè che non poteva circolare la macchina ed è stato fermato per quello non ci credo ragazzi cioè non ci credo che i vigili facciano una cosa del genere perché perché guardano oltre cioè è una legge talmente assurda qua non stiamo parlando di ztl non stiamo parlando di targhe alterne stiamo parlando di cose molto più semplici anche da noi c'è il blocco della circolazione a concorrezza non è diverso dalle altre parti solo che non lo conosco nemmeno perché io sono sempre uscito con il mio allen cruiser sono sempre entrato con il mio allen cruiser ogni volta che devo accompagnare anche a casa mia mamma quindi quelle poche volte che lo uso ma lo uso mai avuto un problema ma è un euro 2 diesel quindi lui mi parla di euro 5 che è roba di adesso ma questa roba dell'euro 2 diesel c'è da anni e anni e anni anche nelle città limitrofe nei comuni più piccoli quindi scrivetemi cosa ne pensate perché questo potrebbe essere un bel tema che magari può aiutare il nostro amico eduardo e sua figlia a sbatterse nel letteralmente di questa cosa e magari a tante altre persone che mi chiedono come si comportano i vari comuni che io non lo posso sapere perché naturalmente non è che posso conoscere le leggi di tutte possono aiutare magari a vivere un pochettino e a farsi scivolare un po addosso le cose perché la vita è veramente già piena di problemi seri se poi ce ne andiamo a creare degli altri quando possiamo evitare cerchiamo di guardare avanti ora domanda tema che abbiamo già trattato però un discorso cerchiamo di prendere un altro senso ciao gabrie risparmi complimenti ringraziando comunque per l'onesta e la gentilità che traspare sempre dalle tue parole vado al dunque non si contano sui web video che trattano di consigli di presentazioni e acquisti di automobili d'epoca e iantimer a vederli spesso viene voglia di entrare in questo magnifico mondo i criteri per valutare un possibile acquisto spesso vertono sul tipo di auto sulle caratteristiche tecniche sui possibili difetti e su eventualmente i costi di manutenzione poi mi piacerebbe sapere chi vi dice tutte queste belle cose perché quando mi dicono ah mi disiscrivo non guardo più i tuoi video e io gli rispondo perché mi piacerebbe anche a me mi trovi un altro canale che tratta le stesse macchine con la stessa stesse macchine con la stessa naturalezza in una realtà vera e ti dice le cose come stanno sia della meccanica che delle prove su strada gratis presentamelo perché io non lo conosco magari c'è però se me lo presenti lo guardo anch'io chiusa la parola quindi mi piacerebbe vedere chi tratta anche tutte queste cose troppo spesso non si parla a parte te l'ha scritto lui dell'impossibilità di reperire i pezzi in quanto i nevasi anche per auto piuttosto recenti ho la fortuna di essere possessore di alcune yantime e mi sono reso personalmente conto che questo problema che obbliga spesso all'immobilizzazione prolungata delle auto se non all'impossibilità di ripararle un paio di esempi di problemi che mi affliggono ora revisione cambio di una toyota mr2 mk2 del 91 parliamo di auto giapponese quindi vedete che non sono diverse dagli altri impossibilità di reperire alcune sincronizzatori e pezzi associati audi tt 3002 prima serie estrema difficoltà di reperire la puleggia della fase di aspirazione del variatore di fase invece per porsche 993 la casa madre fornisce praticamente tutto alt fornisce moltissima roba non tutto Volkswagen è quella tra le tedesche che assomiglia di più a fiat ricordatevi che le tedesche le giapponesi le non è che sono più più bravi di noi cioè un po sì però non è che riproducono i pezzi di ricambio hanno semplicemente degli stock di magazzino molto più grandi a suo tempo e hanno delle leggi fiscali attenzione questa è una cosa importantissima delle leggi fiscali che non obbligano a tutti questi inventari costosissimi alla fine dell'anno voi non vi rendete conto c'è ancora un altro pezzo comunque c'è voi non vi rendete conto di quante giacenze di ricambi fiat e lancia chissà come mai non ci sono di bmw mercedes e audi di fiat e lancia in mano a gestori privati aprite vedete lotto di ricambi su facebook se ne trova una marea ma io dico ma perché questi lotti di ricambi non sono nelle concessionarie con nelle varie concessionarie con i numeri di particolare a prezzo anche pieno o un po scontato quindi anche a prezzo più elevato ma con una logica per poterlo trovare cazzo invece ci sono persone private che mi piacerebbe sapere se hanno anche partita ive e il resto per poterlo vendere alcuni sì ma altri no come sono arrivati a questo lotto di ricambi e perché non sono in casa madre ma vedo lotti grandi eh non sto parlando di materiale usato sto parlando di materiale nuovo materiale usato lasciamo l'hai rotta mai io parlo di materiale nuovo di lotti di ricambi quindi abbiamo un esubero ma attenzione se io vado a cercare quel ricambio che magari questo tizio ne ha 4 5 pezzi sto sparando vado a cercarlo in fiat è in evaso quindi assurdo non è come dire in bmw cerco un baffo del paraurti dell m5 sto sparando c'è un privato che ce l'ha per i fatti suoi nuovo non l'ha montato l'ha preso l'ha rubato cazzi suoi però vado in bmw lo trovo capito cosa voglio dirvi quindi non è che sono obbligato a cercarmi questi fantomatici soggetti privati ma ce ne sono tanti tantissimi quindi i ricambi non è che non c'erano sono stati smaltiti svenduti regalati buttati a suo tempo dalla gestione fiat lancia e dalle officine autorizzate perché ha un costo vi dico questo da ex officina autorizzata ha un costo gestire il magazzino ogni fine dell'anno quindi loro dicono cazzo cosa mi costa re l'inventario reinventare tutto si vende già il primo anno non si è venduto secondo non si è venduto terzo non si è venduto butta via tutto butta via tutto io sono stato contattato da un amico e anche da un altro che poi non sono riuscito a comprare niente perché avevano già venduti hanno svenduto non venduto svenduto con l'arrivo di stellanti già primi ricambi facevano pietà una marea di motori non so quanti 3200 twin fase adesso non so come cavolo si chiama quello della brera della 159 il motore che ha insomma australiano che cavolo di motore ne hanno venduti una marea ma marea intendo una decina che per per averlo è buono cazzo non esiste più quindi quello lì il 2 e 2 i cambi automatici della tesi i cambi automatici della 159 ne hanno venduti smaltiti una marea quindi ricambi non è che non c'erano non è che noi siamo diversi dagli altri abbiamo una mala gestione che è la stessa identica gestione che abbiamo in italia nel fare le nostre cose è uguale si ripercuote sui ricambi ingigantendo la situazione vado avanti con la mail perché se no mi viene nervoso invece per 993 la casa madre fornisce praticamente tutto ho spiegato che non è che ci sia tutto però c'è moltissima roba pertanto prima di acquistare un'auto d'occasione sia essa d'epoca yantimer o semplicemente recente informarsi bene sulla completa reperibilità dei pezzi di ricambio e se in possibilità di reperirli lasciar stare passare oltre sono troppo drastico cosa ne pensi un saluto a te a tutto il tuo team si potresti aver ragione oppure comprarla da una struttura che sai che dietro ti può dare una certa assistenza io perlomeno per le nostre fiat lancia non dico che ho un magazzino ricambi però mi contattano praticamente due tre volte a settimana una marea di gente che mi chiede ricambi io ho una marea di persone gli rispondo che non li ho ma non è che non li ho in casa non li posso vendere chiaro che se dico non li posso vendere questi si incazzano poi come si sono incazzati gli passa però per dire non li posso vendere perché devo dare una continuità ai miei clienti capito se uno compra una tema 8 e 32 da me e si rompe l'interruttore alza vetro non posso dire guarda l'unico che avevo l'ho venduto a quell'altro poi magari non ne avrò mai bisogno ma io avendo queste macchine devo cercare nel mio piccolo di star dietro una persona che l'ha comprata cosa che non fa il venditore il venditore di auto che non gliene frega una madonna ti ha venduto la macchina se si rompe ti dice devi cercarti il pezzo di ricambio capito c'è un po di differenza molta differenza e anche gestire il nostro magazzino ricambi oltre ai costi è anche una questione logistica perché io molte volte compro delle auto le tema è un caso proprio a sé per avere i ricambi per altre macchine che è una cosa folle eppure io l'ho fatto abbiamo venduto tutte le tema della fiera ne ho tenuto soltanto uno quella grigia non è un segreto un nostro cliente si è rotto giustamente le macchine sono vecchie può capitare un interruttore alza vetro un interruttore regolazione specchi ma da memoria c'era un'altra cosa un altro ha perso la targhetta identificativa la persa e quindi non è che si è rotta la persa per strada la targhetta identificativa 8 e 32 glielo abbiamo forniti a tutte e tre ma se era un altro gli diceva guarda devi cercarti di su internet quindi con un po di fatica poi li trovi ma anche lì viene fuori il solito discorso io trovo gente che è in braghe di tela per trovare dei ricambi perché ha comprato la macchina nel posto sbagliato detto questo ragazzi io vi auguro un buon proseguimento di domenica vi ho lasciato in sovraimpressione il nostro nuovo sito fatemi sapere se vi piace c'è lo shop abbiamo inserito tanti libretti usa manutenzione manuali di officina alfa romeo e lancia faremo dei video dedicati che seguiranno chiaramente le persone a cui sono interessate a questa cosa per ampliare la loro collezione o comunque per conoscere il nostro nuovo sito qui ci abbiamo messo l'anima vi mando un abbraccio ragazzi se invece volete scrivere le mail per la puntata domenicale gabriele chiocciola gas e automobili punto it la prossima domenica la puntata non ci sarà perché naturalmente saremo al modena motor fest però lo facciamo comunque la domenica successiva un grandissimo abbraccio grazie per averci seguito anche oggi fatemi sapere cosa ne pensate i commenti sono sempre belli se sono costruttivi e educati ciao a tutti buon proseguimento di serata di giornata ho detto detto di serata di giornata ho sbagliato che per me qui è già sera quindi di giornata ciao